Tra le domande più frequenti durante i corsi c'è quella relativa al modello di AI generativa da utilizzare. Quale preferire tra ChatGPT, Google Gemini o Cloud 3.5 Sonnet? Andiamo a vedere uno per uno quali sono i punti di forza e a individuare qual è il più utile per ognuno di noi. In questo momento mi ritrovo su ChatGPT 4O, vado a inserire un prompt secondo il modello CIR che è appunto il modello contesto intento risposta. Spiegherò che sono un docente formatore e devo strutturare un corso su ChatGPT. Chiedo appunto puoi darmi una scaletta di argomenti. Quindi a questo punto ChatGPT elabora una serie di contenuti che io posso poi eventualmente andare a sviluppare uno per uno a seconda delle necessità specifiche. Questo è un tipo di approccio che ovviamente non vale solo per ChatGPT. Posso fare qualcosa in più? A questo punto in basso a sinistra posso interrompere intatto la generazione di contenuti. In basso a sinistra la graffetta carica da computer o aggiungi da Google Drive mi consente di caricare dei contenuti specifici con i quali addestrare tra virgolette il mio modello su argomenti che poi posso andare a caricare appunto attraverso questa banalissima graffetta inserendo appunto dei contenuti delle informazioni più specifiche che mi consentano di lavorare con ChatGPT 4O senza andare a recuperare informazioni dal web o dal suo addestramento ma da quell'isola di informazioni che io ho inserito come addestramento specifico del modello. Questo tipo di addestramento è ancora più evidente nel momento in cui noi ci spostiamo sui GPTs cioè su questa ulteriore pagina di ChatGPT dove esistono già specifici modelli che sono come dei piccoli strumenti di elaborazione di contenuti che sono già addestrati su informazioni molto ma molto settoriali e specifiche per cui io troverò qualcosa qui che riguarda la scrittura, la produttività in questo senso anche grafica, la ricerca e l'analisi sono, vedete c'è anche qui un GPT dedicato alla matematica sono appunto dei GPT molto molto più specifici, settoriali con i quali possiamo andare a lavorare su argomenti molto specialistici questo è sicuramente uno dei punti di forza del modello. Insieme a questo, tornando al menu principale, ChatGPT consente anche di generare immagini direttamente integrando all'interno della stessa riga del prompt un collegamento diretto con Dolly altro modello AI di OpenAI quindi non devo utilizzare un ulteriore app o tool di intelligenza artificiale ma direttamente con ChatGPT, vedete, posso andare a creare il mio grafico, la mia immagine che può andare poi a essere implementata su qualsiasi altro tipo di attività che devo svolgere questa è sicuramente una delle potenzialità più importanti di ChatGPT che appunto integra al suo interno non solo la capacità di elaborare contenuti testuali ma anche immagini se ci spostiamo infatti sul Gemini la generazione delle immagini ancora non è disponibile ma il punto di forza in questo caso di Google Gemini è un altro perché se io chiedo di creare lo scrivo proprio in questo senso il prompt una tabella con i dati aggiornati del PIL italiano allora, in questo caso che cosa succede? Google Gemini crea la tabella ma in più mi offre la possibilità di interagire con tutto il mondo Google Workspace per cui esporto in fogli cliccando qui sulla destra, vedete e io posso andare poi a ritrovare la stessa tabella già in una sorta di foglio Excel in questo caso un foglio creato nella cloud di Google Workspace dove poi posso andare a lavorare direttamente in formato appunto griglia o tabella la stessa cosa vale per tutto il mondo Google Workspace e in questo caso ad esempio anche per Gmail posso chiedere scrivi una mail per accompagnare la pubblicazione di questo grafico di questa tabella anche in questo caso io poi posso andare a esportare questa mail scritta sul modello direttamente nel mio Gmail semplicemente con un click quindi ce l'avrò qui nelle mail da inviare io apporterò tutte le modifiche necessarie e mi ritrovo però già il lavoro quasi fatto ripeto quando parliamo di modelli di intelligenza artificiale siamo sempre di fronte a dei semi lavorati che poi dobbiamo andare ad affinare con il nostro insight con le nostre competenze con il nostro sapere ci spostiamo infine dopo aver visto questo punto di forza di Google Gemini che è appunto quello di essere integrato con tutto il mondo Google quindi con il Workspace e tutte le applicazioni del cloud di Google infine andiamo a vedere come funziona invece Cloud3 modello di intelligenza artificiale creato da Antropic che è una società che porta al suo interno un know-how maturato all'interno di OpenAI perché insomma i fondatori arrivano da quel mondo lì che è riuscito in poco tempo a superare per certi versi anche i chat GPT su alcune specifiche potenzialità in particolare sulla sinistra troviamo i progetti che sono qualcosa di molto simile al notebook LM di Google cioè creo delle isole di informazioni sulle quali poi vado a lavorare e a estrarre specifici contenuti non è un GPT come abbiamo visto prima è qualcosa di molto simile al Google notebook LM che potete andare a ritrovare su altri tutorial del mio canale e sicuramente molto importante è la funzione artefatti di Cloud3.5 Sonnet come funziona la modalità artefatti io posso chiedere al modello AI di creare una vera e propria web app prima con il codice sorgente e poi addirittura con un link online che mi consente di renderla operativa e funzionante ad esempio crea una web app che riproduca il gioco del ping pong con i cursori di colori diversi e una schermata superiore con il punteggio e i comandi devono essere azionati con il mouse del pc quindi a questo punto che succede il modello crea non solo la chat ma vedete si divide in due parti e comincia a creare sulla destra tutto il codice necessario per lo sviluppo dell'applicazione vera e propria oltre a questo mi ritrovo che questo tipo di applicazione la posso pubblicare da questo tasto publish e renderla effettivamente operativa online quindi non ho solo un'anteprima del gioco una preview ma ho la possibilità di pubblicarla online e di ritrovarmela poi perfettamente funzionante sul web ad esempio posso far vedere questa applicazione che ho già generato questo verifica notizie che ho creato sempre tramite la funzione artefatti è una sorta di alert contro le fake news io qui posso incollare il link di una notizia qualsiasi e l'app che ho creato io andrà a verificare attraverso un database di siti e informativi se quella notizia è confermata da almeno tre fonti affidabili è presente in uno o due fonti e quindi richiede ulteriori verifiche oppure mi darà un alert rosso attenzione la notizia non è stata trovata in nessuna fonte affidabile questo è un piccolo esperimento che ho fatto proprio per verificare la funzione artefatti di Cloud 3.5 Sonnet insomma abbiamo appena visto come ognuno dei tre modelli abbia dei punti di forza sta a noi decidere qual è quello più pertinente più attinente alle nostre esigenze attraverso un po' di The air that you breathe